Hola Todes, eccoci qua, puntata 1 di Time's Up, in realtà puntata 2, dopo il pilot, io intanto ringrazio per i numerosi feedback e complimenti che ho ricevuto. Oggi, seconda puntata, come dicevo prima, parliamo ancora di rugby, di pallovale, ma vi prometto che sto cercando nuove cose, nuovi temi, ospiti e quant'altro. Oggi parliamo di Pumas, oggi ho anche le grafiche belle, vi prometto che farò delle grafiche bellissime, dovete solo pazientare un pochino, ma ci arriveremo. Tolgo lo stemmino, che in verità non è un Puma, è un giaguaro, e sarebbe bello magari raccontare la storia del simbolo di Pumas, della storia. Ha una bellissima storia, ma adesso non c'è il tempo, parliamo di questa Argentina. La partita con gli All Blacks l'abbiamo vista, la vittoria nettissima con gli All Blacks l'abbiamo vista, abbiamo visto tutti l'immagine di Paolo Matera, della sua garra. Ma questa Argentina non è solo garra, questa Argentina è molto di più. È una squadra che sta bene in campo, è una squadra che ha saputo anche adattarsi a un'esigenza, a una necessità, al fatto che in questo momento il Super Rugby è fermo, quindi i Jaguars non giocano e quindi sono dovuti arrivare giocatori europei, o quantomeno giocatori argentini che giocano in Europa. Quindi penso a Gomez Godela che ha fatto una gran partita con gli All Blacks, un pochino meno con l'Australia. L'Australia ha fatto un gran lavoro in prima linea per limitare la forza della mischia argentina. Penso a Wani Moff che tornava in azione dopo tanti anni. Penso a Facundo Isa che ha fatto un grande secondo tempo con l'Australia. Ed era ora che un giocatore come Isa tornasse a essere importante in nazionale. Poi c'è ovviamente Sanchez che è la grande guida di questa squadra, l'uomo decisivo con i suoi calci, con le sue giocate. C'è da dire che nel pareggio con l'Australia ha fatto un grandissimo lavoro nel secondo tempo, un lavoro mentale. Perché a un certo punto 15-6 ha cominciato a risalire la corrente e l'Australia gliel'ha concesso. L'Argentina ha questa grande dote di punire gli errori avversari. Dave Regna a fine partita in conferenza stampa l'ha detto con grande chiarezza. Sul 15-6 noi dobbiamo avere il controllo dell'incontro, non esiste quello che abbiamo fatto. Sanchez ha infilato dei calci da metà campo, questo è talento. Però l'Argentina ha corso meno della metà degli australiani. È stata più efficace in placcaggio, più efficace sulle fasi statiche. Ha calciato meno, ha avuto molto meno territorio e l'Australia non ha finalizzato l'Argentina, sì. Ogni volta che entrava in metà campo australiana prendeva calci. La statistica recita 12 falli concesse dall'Argentina, unici dall'Australia. E questo dice moltissimo in proporzione al territorio, al possesso del pallone. E poi l'Argentina ha avuto la palla per vincere, che nasce da una giocata notevole di Cubelli. Perché comunque adesso i numeri 9 fanno anche un grande lavoro difensivo, che può essere un lavoro alla De Klerk o alla Garrett Davis, quindi di intercetto del 9 avversario quando prende la palla, fa uscire a punto d'incontro. Che può essere di Fetcher, nel caso di Cubelli sull'ultima azione della partita. Può essere un mix delle due, abbiamo un ottimo esempio, secondo me ce l'ha Anthony Dupont, che in questo momento, per come la vedo io, è il miglior mediano di mischia del mondo. Ci sono tanti modi di interpretare il ruolo e di interpretarlo anche difensivamente. L'Argentina però non è solo questo, è anche per esempio uno staff tecnico di primo ordine. C'è Mario Ledesma che sta facendo un grande lavoro, è affiancato da una grande figura del rugby argentino di ultimi anni, che è Juan Martin Fernández Lobe, che allena la tusche, che allena i Jaguar 15 e sta facendo delle ottime cose. C'è il ritorno di una grande figura del rugby argentino, che è Marcelo Loffreda, il Tano, che è diventato una specie di club manager dei Pumas, ma affianca l'Edesma, lo sostiene, non interferisce, questo è molto importante. Concludo con due aspetti. Ovviamente dovremmo dilungarci, ma non ha molto senso. stiamo su piccole cose per dare piccole informazioni a chi ci ascolta. Dicevo la prima, questo sistema comunque ha delle criticità, perché comunque non è semplice conciliare i Jaguars, che comunque negli anni hanno avuto dei risultati molto importanti, e la filiera, la filiera di base, che fa un grandissimo lavoro, questo bisogna sempre tenerne conto, perché comunque quello che è in alto livello non è solo la ripercussione del lavoro in alto livello, è anche quello che succede in tutti i gradini della piramide, e questo è molto importante, bisogna tenerne conto anche in Italia. e far conciliare queste dimensioni non è semplice, soprattutto in questi tempi di crisi economica. Quindi sarà anche una sfida che avrà nei prossimi anni il rugby argentino, riuscendo anche a evitare la diaspora, quindi la fuga verso l'Europa, dei giocatori di più alto livello, e poi c'è un aspetto prettamente italiano, perché si parla di come si era 15 anni fa, degli oriundi, o addirittura io ho letto anche di voler tornare a riprendere in massa oriundi, noi dobbiamo lavorare sulla nostra formazione, dobbiamo lavorare sulla formazione per la parte federale della federazione, dobbiamo lavorare sulla formazione del club all'interno del club, e questo ci porta ad avere un rugby italiano di qualità, quindi non pensare al passato, al fatto che pescavamo i parisi e li rubavamo, perché come secondo me ha dimostrato proprio la partita con gli All Blacks, non si vince col gesto di personalità del capitano, del leader della squadra, quello aiuta, ma poi ci deve essere una squadra che per 80 minuti fa la partita, e la fa bene, l'ha fatta benissimo con gli All Blacks, l'ha fatta meno bene con l'Australia, ma quando c'è stato bisogno di alzare i colpi per riprenderla, l'ha ripresa. Quindi i Pumas sono una grande squadra, e non sono solo garra. Io do questo titolo finale, con questo vi lascio, e ci vediamo settimana prossima. Grazie. Grazie. Grazie.